Musica Buonasera e ben arrivati a Sportissimo, puntata numero 13 del settimanale di Fano TV. Quando si gioca una finale, naturalmente l'ambizione è quella di vincerla e di alzare un trofeo. Alla fine però, quando la finale viene persa, resta comunque l'orgoglio di averla raggiunta questa finale. E la finale di Supercoppa, la Vigilar l'ha centrata, conquistando il primato assoluto in regular season del campionato di A3, Girone Bianco. E della Vigilar accogliamo questa sera il direttore sportivo Mattia Brunetti, buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. E lo schiacciatore Federico Roberti, buonasera anche a lui. Buonasera a tutti. Finale di Supercoppa, sabato sera al Palace Allende, gremitissimo, ma purtroppo non ci vuole molto a riempire il Palace Allende. In questo caso grande entusiasmo, ci si aspettava naturalmente il miglior risultato possibile, non è arrivato. Dall'altra parte della rete c'era Pineto, la squadra probabilmente più forte del Girone. Una squadra tra l'altro in una grande condizione al momento e Pineto alla fine ha fatto valere i diritti del più forte. Credo nessuna recriminazione alla fine, Brunetti. Assolutamente no, Pineto ha fatto una grande finale, ha dimostrato tutto il suo valore, ma d'altronde l'ha dimostrato in tutta la stagione. Noi è vero, siamo arrivati davanti a loro in campionato con una vittoria in più, siamo stati molto irregolari, abbiamo vinto con tutte le squadre che c'erano dietro, abbiamo lasciato solo quattro squadre, quattro partite perse e due di cui con Pineto. Quindi ecco, nulla da recriminare, credo che il risultato ai miei sia giusto, però rimane la felicità di aver organizzato un evento, comunque sia che abbia riempito il palazzetto e che abbia dimostrato le capacità organizzative che ha la nostra società. Roberti, come avete vissuto questa finale? L'impressione è che Pineto vi abbia lasciato davvero pochissime chance. Sicuramente, Pineto, come ha detto già Mattia, è una squadra ben attrezzata, con dei giocatori di punta, tra cui il palleggiatore e l'opposto sicuramente. È una squadra che ha sbagliato poco, ci ha concesso poco, non siamo quasi mai, tranne Sprazi nel terzo set, entrati in ritmo gara. Comunque è stata una gara anche vissuta, molto forte per quanto riguarda il piano emozionale, mentale e in questo forse loro, anche con la loro esperienza, avevano qualcosa in più di noi, che è stato il punto focale poi della partita. La differenza più sensibile, almeno a vedere dal di fuori la partita, è che voi le vostre opportunità in contrattacco abbiate avuto difficoltà a trasformarle, mentre Pineto non ha lasciato praticamente niente per strada. No, quello sicuramente è vero, abbiamo fatto difficoltà in contrattacco, mentre loro erano un po' più fluidi, anche con il loro sistema di muri di difesa ci hanno un po' schiacciati per quanto riguarda, e per il resto però non abbiamo niente da recriminarci, adesso bisogna lavorare per domenica, il vero obiettivo è quello. Dicevamo di una vigilar che è riuscita nell'impresa di mettersi alle spalle Pineto in regular season, questo è un motivo di grande orgoglio. Sì, sì, assolutamente, come dicevo prima, noi siamo stati molto regolari, la nostra grande forza è stata questa. Ricordiamo 22 vittorie con solo 4 sconfitte. Esatto, un campionato importante, siamo stati appunto molto bravi a mantenere regolare il passo in tutta la stagione. Mettiamoci un passo falso, ce lo siamo concessi, quello di Sandona di Piave, pur conquistando un punto, comunque sia, mentre comunque sia sapevamo che le partite perse, poi due con Pineto e una con Macerata-Macerata, già sapevamo che sarebbero state molto difficili per noi, soprattutto nelle condizioni in cui le abbiamo affrontate. Però ecco, nulla toglie a questo percorso che ci ha portato ad essere i primi in classifica, ci ha portati a giocarci la Supercoppa in casa e domenica ci porterà poi a giocare la finale diretta per la Serie 2. Un Pineto costruito, impergnato sui giocatori di grandissima esperienza, anche questo è un fattore all'età media più elevata, le esperienze fatte a certi livelli, che poi quando si giocano a finali si fa sentire. Sì, sì, assolutamente. Su tutti il palleggiatore, un palleggiatore che ha una grandissima esperienza, Paris, ha già giocato molti campionati di A2, ha giocato all'estero e si è visto nei momenti importanti recuperare palloni che noi davamo già dalla parte nostra, già ci vedevamo a servizio, mentre lui è riuscito a sistemare in maniera ottimale e poi comunque sia ha permesso alla propria squadra di fare il vecchio cambio palla. Una Vigilar che ha avuto il miglior marks a partire dal terzo set, chiaramente in partite di questo livello di difficoltà, poter contare sul proprio schiacciatore principe fin dall'inizio ai massimi livelli è fondamentale. Sicuramente, infatti Vigilar, Marks ci dà una grandissima mano, anche perché comunque è il nostro giocatore di chiave, la nostra punta insomma, e grazie a lui spesso riusciamo a uscire da situazioni magari un po' che si fanno come dire complicate, sì sicuramente. Una Vigilar che tra l'altro, non dimentichiamolo, ha affrontato questa finale privata. A proposito di esperienza di uno dei giocatori che ha esperienza nel di più quel gozzo che sta vivendo una stagione travagliatissima dal punto di vista degli infortuni, come sta, se è recuperabile per questa sfida promozione di cui parleremo tra poco? Sì, Stefano sta, le ultime partite ha un po' sofferto, è vero, una stagione un po' sofferta per lui, però non perché è qui, ma Federico insomma non lo sta facendo assolutamente rimpiagge, ha fatto prestazioni importanti e quindi ci fa ben sperare e comunque sia crediamo di essere ben sostenuti in squadra. Lo stiamo recuperando, credevamo già sabato di poterlo utilizzare, poi ha avuto un piccolo risentimento durante il riscaldamento, abbiamo provato a buttarlo nella mischia, però ecco, le sensazioni che ha avuto subito nei primi due palloni ha fatto propendere Castellano per, tra virgolette, recuperarlo meglio in vista di quello che è il nostro vero obiettivo, che è la finale di Ortona. Non è mai piacevole godere delle disgrazie altrui, specie se si tratta di un compagno, però chiaramente gli infortuni di Gozzo, prima il polpaggio, poi la caviglia, ora la schiena, ti hanno offerto la possibilità di giocare a lungo titolare. Quanto ti senti cresciuto nell'arco di questa stagione, Federico? Nell'arco di questa stagione molto, anche per gli insegnamenti di mister Castellano. Mi dispiace ovviamente per Stefano, anche perché è due anni che comunque siamo insieme, quindi so che per lui non è stato sicuramente facile questo, come è andata la stagione, visti i suoi infortuni. Comunque sono molto contento per lo spazio che mi sono riuscito a ritagliare quest'anno e spero ancora di poter dare una mano alla mia squadra. Per un giovane l'importante è giocare, così si progredisce appunto nel proprio percorso pallavolistico, tra l'altro tu stai bruciando le tappe, un'estate importante, il titolo europeo junior, ora questa esperienza da titolare, aggiunto chiamiamolo così, in A3, cosa vedi nel tuo futuro personale? Spero di continuare a giocare a questi livelli, in A3, in A2 e poi speriamo magari anche di più, però per adesso i miei obiettivi a breve termine sono preparare il mondiale, provare a essere nei convocati e poi l'anno prossimo vedremo quali saranno le offerte, oppure rimanere a Fano sicuramente. Roberti è l'emblema del momento di un vivaio virtussino che ha regalato enormi soddisfazioni nei decenni, in questa squadra però ci sono anche altri elementi prodotti dalla base, cambi utilissimi soprattutto per quello che riguarda la seconda linea, continua a svilupparsi la politica della Virtus stesa a privilegiare i propri giocatori e a dargli quante più opportunità possibile? Sì, tutti gli anni noi basiamo le nostre squadre sul prodotto interno, quindi cerchiamo di valorizzare i ragazzi che meritano quanto di più la Serie A, partiamo da loro e poi costruiamo tutto un'intera di attura intorno a questa squadra. Federico è la punta di diamante di questo settore giovanile che comunque sia continuo a produrre da tanti anni ottimi giocatori, però senza dimenticare Luca Gori o comunque sia Tito o altri ragazzi comunque sia del territorio, Manolo Carburri, Pietro Galdenzi, ne abbiamo tanti. Avete perso per strada Sabatini che pure sta dando un contributo importante. Assolutamente sì, abbiamo perso Luca Sabatini, adesso l'abbiamo perso con orgoglio perché ha vinto una borsa di studio in Giappone e quindi siamo contenti che abbia avuto questa opportunità oltre alla Palavolo. Quindi l'abbiamo perso sì, ma siamo contenti per lui, insomma, perché questi ragazzi devono coniugare comunque sia il percorso sportivo e soprattutto quello scolastico in modo tale di avere comunque sia un futuro, diciamo, oltre alla Palavolo. Mentre continuiamo a far scorrere le immagini della gara di sabato scorso, possiamo orientare allo sguardo a quello che sarà l'appuntamento chiave o meglio gli appuntamenti chiave di questa stagione perché è bello vincere la regular season, è bello giocare alla finale di Supercoppa, anche se sarebbe stato preferibile anche vincerla. Ora però si tratta di giocare per il salto di categoria. Da questo fine settimana la sfida con Ortona, al meglio delle tre partite, il primato in regular season, ma soprattutto il maggior numero di punti, vi consente di contare sulla eventuale bella in casa. Che sfida sarà quella con Ortona che parte domenica prossima al Parasayende? Beh, è una sfida complicata, però ecco, se l'avessero detto a luglio dell'anno scorso, forse non ci avremmo mai creduto di essere a questo punto. Quindi è un impegno che ci ne orgoglisce, sarà difficile, complicato, perché Ortona è una squadra molto esperta, su tutti hanno, diciamo, un mito del volo internazionale, Marshall, anche se ha qualche anno... 43 e rotti... Esatto, esattamente, però ancora sta dimostrando... Ancora con le molle nelle caviglie. Esatto, è ancora dotato di molle e avere un braccio armato di quelli pesantissimi. Quindi ecco, sarà difficile, complicata come sfida, però credo che abbiamo tutte le carte giuste per ottenere comunque sia un risultato, un buon risultato. Federico, avete già cominciato a mettere a fuoco questo nuovo avversario? Certo, adesso comincerà la settimana e dovremo prepararci al meglio per affrontare Ortona, quindi studiare bene i loro giocatori, che sappiamo che sono giocatori di alto livello, come ha detto Mattia Marshall, ma anche il palleggiatore ferrato, eccetera, eccetera. E comunque dovremmo prepararci al meglio per questa sfida di domenica, perché ci teniamo molto a far bene davanti ai nostri tifosi. La sensazione che hanno ricavato gli addetti ai lavori è che il girone meridionale, il centro meridionale, fosse un po' meno competitivo di quello centro settentrionale. È solo un'impressione? Oddio, quest'anno all'inizio si credeva che il girone, chiamiamolo sud, il girone sud era più attrezzato. Poi invece con lo scorrere del campionato, con un po' le sfide di Coppa, e Pineto, che ha dominato in pratica le manifestazioni dove ci siamo incrociati, sta un attimino spostando l'ago verso il girone nord. Effettivamente ci sono due, tre, quattro squadre nel girone nord che a sud avrebbero potuto comunque sia fare molto bene. Vero anche che Ortona e Catania potrebbero fare altrettanto nel girone nord. Catania che però ha avuto questo clamoroso crollo, complice degli infortuni nel finale, sembrava avere il primo posto in tasca e poi si è fatta risucchiare da Ortona che ha saldato il conto nel confronto diretto. Sì, Catania ha subito un infortunio pesante, il loro miglior schiacciatore si è infortunato, ha rotto il menisco, e quindi subito dopo poi la Coppa Italia. Già la Coppa Italia aveva minato un po' gli animi, perde lo schiacciatore più forte, probabilmente ha segnato il loro percorso. Ora è difficile per loro risalire un po' alla china, passeranno per i play-off e quindi sappiamo quanto è dura poi affrontare tutta la fase play-off. Sì, perché dimentichavamo di segnalare che questo primo posto in regular season che la Vigilara ha portato a casa non ha consentito solo di disputare la Supercoppa, non consente solo di contare sull'eventuale bella in casa, ma facendo tutti gli scongiuri del caso, nell'eventualità di una sconfitta in questa sfida, al meglio delle tre partite con Ortona, la Vigila rientrerebbe in gioco all'altezza delle semifinali del tabellone dei play-off, quando per esempio Pineto già domani sarà impegnata a Bologna. Esattamente, Bologna ha, scusami, Pineto ha un percorso abbastanza complicato, nel senso dovrà comunque sia giocare sei partite per arrivare in finale, sai, quando giochi sei partite comunque sia possono succedere tante cose, quindi ecco, è un percorso minato quello dei play-off, mentre noi ecco, con il primo posto ci siamo tenuti prima, come prima obiettivo comunque sia, quello di arrivare in finale per la promozione diretta, ma qualora non dovessimo centrare alla prima opportunità, alla promozione, abbiamo comunque sia la seconda chance che ci proietta già direttamente alle semifinali, che non è poca cosa. Fattore campo significa Palassa Allende, che sarà prevedibilmente gremito come sabato scorso, quanto può incidere il fattore pubblico in questa sfida con Ortona? Il fattore pubblico è molto importante per noi, anche perché comunque abbiamo molti tifosi che spesso vengono a riempire il Palassa Allende e noi vogliamo dare loro quello che si meritano veramente. Tra l'altro, di solito, quando si gioca al meglio delle tre partite, gara 1 ha sempre un peso, non dico decisivo, ma fondamentale, quindi già domenica la Vigilare è chiamata a cavar fuori il meglio del proprio repertorio, a tornare ai livelli che mi pare abbia toccato in particolare nella parte centrale della stagione. Sì, siamo chiamati a sicuramente crescere rispetto alla prestazione che abbiamo fatto con Pineto. Dobbiamo comunque sia approcciare il meglio possibile la gara, cosa che non ci è riuscita a Monselice, cosa che non ci è riuscita con Pineto, abbiamo concesso troppo subito, abbiamo concesso per poi partire magari un po' più consistenti dal secondo set. Questo domenica sicuramente non ce lo potremmo permettere, dovremo aggredire gli avversari comunque sia a far pesare il fattore campo, il pubblico ci dovrà sostenere in questa cosa perché poi ci siamo accorti che è determinante. Però ecco, ripeto, sì, importante e fondamentale, ma avere la bella in casa forse ci dà ancora qualcosa in più rispetto agli altri. Crediamo che possiamo farcela, insomma. Il dettaglio di questa sfida con Ortona attraverso la tabella, una sorta di promemoria anche per tutti gli appassionati, gara 1 è in programma domenica alle 19, il 16 aprile, gara 2 ad Ortona il 22 aprile alle 20 e 30, eventuale gara 3 il 25 aprile, di nuovo alle 19 al Palace Allende, ora a costo di mettere il carro avanti ai buoi. Ma nell'ipotesi migliore, cioè che la Vigilar conquistasse la 2, si giocherebbe in deroga di nuovo l'anno prossimo al Palace Allende e poi è in mano all'amministrazione comunale, perché bisogna dire veramente qual è la situazione. Noi abbiamo un palazzetto che attualmente conta 700 posti, il consorzio Lega Palavolo Serie A ci concede un anno di deroga, ma dal secondo anno dobbiamo assolutamente giocare in un palazzetto di mille posti. In Palace Allende stiamo studiando in questi giorni, già ci abbiamo iniziato a mettere le mani, può comunque sia raggiungere una capienza di mille posti, ma i lavori da fare non sono così banali. Quindi bisogna iniziare a metterci, come dire, la testa già da oggi e non fra un anno, perché altrimenti ci troveremo in una situazione che abbiamo già vissuto come fanesi 24 anni fa. Esattamente, quando l'allora della Rovere Carifano dopo la storica promozione in A1 fu costretta ad emigrare all'arena di Pesaro con tutta una serie di percussioni a livello logistico e finanziario che ha pagato duramente. Ringraziamo Mattia Brunetti, direttore sportivo della Vigilarfano e Federico Roberti, schiacciatore della squadra fanese. Noi torniamo fra qualche istante. E adesso il calcio con l'Alma Juventus Fano che ha osservato il riposo pasquale, ma prima era scesa in campo a San Benedetto del Tronto dove dopo 90 anni è tornata a vincere. Lo ha fatto con le reti di Carrà e Cecconi in mezzo al provvisorio pareggio dei padroni di casa con Marras. Partita tutto sommato equilibrata che la formazione di Mosconi ha comunque interpretato con un buon atteggiamento sicuramente favorita nel corso della ripresa dall'espulsione fra i padroni di casa di Cardella. Alma che a quel punto ha spinto con più decisione e trovato appunto nei secondi finali il successo con Cecconi che come Carrà era al primo bersaglio stagionale. Risultati di questa trentesima giornata che possiamo scorrere e che sono stati caratterizzati in particolare dal pareggio casalingo inaspettato del Pineto contro l'ultima forza del campionato il Tolentino già con un piede e mezzo in eccellenza questo consentito la Vigor Senigallia protagonista di una straordinaria rimonta ai danni del Matese di riportarsi come vediamo dalla classifica a meno sette dalla capolista quindi promozione ancora teoricamente in discussione Alma che scavalca il Cinzia al Balunga guadagnandosi il quarto posto a sette lunghezze dal Trastevere questo significherebbe oggi disputare i playoff anche perché nel frattempo il margine sulla quinta è cresciuto è di cinque lunghezze la sesta è addirittura a sei Alma che è attesa da quattro gare come del resto anche la concorrenza la prima delle quali è in programma domenica prossima in casa con il Montegiorgio squadra che sta rischiando la retrocessione diretta che proprio in queste ore ha deciso per il cambio di allenatore esonerato Izzotti al suo posto Roberto Bacci Montegiorgio che si presenterà prevedibilmente agguerrito al Mancini ma l'Alma sembra in un momento favorevole ha subito dimenticato in qualche modo il passo falso casalingo con la Vigor Senigallia ha ottenuto un successo probante appunto come quello del Riviera delle Palme sembra determinata a conquistare questa post-season che sarebbe il miglior premio ad una stagione comunque vissuta da protagonista a Sportissimo non c'eravamo ancora mai occupati di basket ed era doveroso farlo quanto prima ci piace esordire nel campo del basket ospitando una dignissima espressione del basket marchigiano come la pallacanestro Senigallia sponsorizzata Golden Gas di cui ospitiamo questa sera la presidente Sonia Fileri buonasera e benvenuta buonasera a tutti e l'allenatore Paolo Filippetti buonasera anche a lui grazie buonasera Golden Gas Senigallia che dicevamo espressione ormai radicata del basket marchigiano 21 anni di serie B e con una presenza in questo campionato sempre molto onorevole l'anno scorso addirittura i play-off promozione quest'anno perfettamente in linea con quelli che sono gli obiettivi stagionali cioè quelli di disputare i play-in ma andiamo con ordine che storia ha alle spalle questa pallacanestro Senigallia presidente allora la pallacanestro Senigallia ha una storia più che quarantennale perché in qualche modo nasce nel 79 ma diciamo che negli ultimi 20 anni abbiamo disputato sempre la categoria della serie B tra serie B1 e serie B2 e negli ultimi anni sempre play-off i play-off per disputare per salire in A2 addirittura l'anno scorso abbiamo fatto la semifinale per salire in A2 quindi diciamo sempre risultati ottimi quest'anno lo stesso siamo in linea adesso facendo diciamo con tutti gli scongiuri del caso siamo anche quest'anno siamo dove volevamo essere forse un pochino anche più su di quello che c'eravamo prefissi quindi siamo contenti anche perché avete nel corso dell'estate operato un profondo rinnovamento i sopravvissuti della passata importante stagione sono pochi e questo comporta sempre qualche disagio almeno all'inizio quasi tutte le squadre hanno fatto un profondo rinnovamento e sono state pochissime le squadre che diciamo hanno cambiato in questo diciamo nel nostro girone hanno tenuto l'ossatura dell'anno precedente e noi siamo una di quelle che ha cambiato tanto e abbiamo inserito tanti giocatori nuovi e siamo molto una scelta o una necessità questa filosofia improntata al rinnovamento un pochino una scelta e molto anche una necessità non abbiamo giocatori del nostro vivaio tali da diciamo da formare tutta quanto una squadra o parte di queste e quindi alcuni giocatori di Senigali hanno scelto di stare altrove e abbiamo fatto una squadra tutta quanta nuova abbiamo pure un nuovo coach di cui siamo molto contenti ecco esattamente si è inserita in questa strategia improntata al rinnovamento l'investitura ad allenatore di Paolo Filippetti esordiente in categoria come vi siete orientati su Filippetti presidente e se quello che vi aspettavate da Filippetti lo state ottenendo allora il cambio del coach diciamo si è è stata una cosa diciamo obbligata in quanto il coach che avevamo l'anno precedente ha fatto una scelta diversa e la scelta è ricaduta su Paolo tramite il nostro direttore sportivo che lo conosceva bene io sinceramente non avevo avuto modo di conoscerlo non aveva calcato mai la categoria ma sapevamo diciamo quanto di buono aveva fatto comunque diciamo che la sua palla canestro ci piaceva e quindi abbiamo fatto questa scelta diciamo un pochino azzardata per qualcuno ma poi insomma i risultati hanno dato ragione a noi come si è approcciato Filippetti a questa nuova avventura e se si riconosce nella squadra che sta guidando mi sono approcciato in punta di piedi cercando di capire la categoria perché appunto per me era una novità io venivo da anni di serie C o da un anno di serie A femminile quindi mondi apparentemente vicini ma in realtà abbastanza lontani quindi mi sono approcciato molto in punta di piedi e cercando di capire la categoria e una volta capite le varie differenze sono fisiche direi anche tecniche credo di aver portato qualcosa di mio a questa squadra che fisionomia ha questa squadra che caratteristiche esprime? allora una squadra mentre magari possiamo mandare in onda alcuni spezzoni di una gara condotta vittoriosamente in porto contro San Mignano quindi è giusto che vada guarda sono successe tante cose quest'anno quindi eravamo partiti con una fisionomia e abbiamo dovuto purtroppo per varie cause e vicissitudini cambiarla durante la stagione era una squadra che nasceva con l'idea di essere una squadra e questo invece l'abbiamo mantenuto di avere un grande carattere quindi di lottare su ogni pallone di essere una squadra viva dove la difesa aveva un ruolo importante e la possibilità di poter correre più possibile in contropiede perché abbiamo giocatori molto adatti alla corsa e alla palacanestro e in velocità poi appunto per alcune vicissitudini abbiamo avuto alcune partite in cui questa fisionomia l'abbiamo un po' persa e incontravamo tra l'altro le squadre più forti del campionato quindi lì c'è stato un momento dove abbiamo avuto un proprio come dire difficoltà di identità adesso che l'abbiamo ritrovata stiamo riprendendo forza nella nostra palacanestro e stiamo affrontando più o meno tutte le squadre con la stessa intensità con la stessa garra come diciamo noi e questo ci sta dando attualmente buoni risultati Quali sono in generale i requisiti che impone questa categoria? Allora è una categoria che è molto fisica quindi impone il fatto che tatticamente bisogna essere pronti a saper attaccare a livello offensivo molte scelte che le squadre difensive fanno quindi cambi difensivi alcune idee sul pick and roll che magari in categorie minori non si fanno e in attacco bisogna avere le idee molto chiare cioè trovare gli obiettivi giusti il momento in cui bisogna cercare di fare il canestro da fuori il momento in cui bisogna servire la palla più vicina a canestro quindi è una categoria che richiede applicazione Un allenatore non ama mai fare nomi però quali sono i punti di riferimento di questa squadra? Noi abbiamo un sicuro punto di riferimento che è il nostro capitano Marco Giacomini che ha sei anni che sta e che credo recentemente abbia fatto una super partita realizzato una performance mica da ridere assolutamente e lui è un ragazzo che inserendosi nella classifica all time esatto quando si è informato si è fatto una partita fiorenzoale di 37 punti quindi una cosa che nella palla canestro ha un grande peso e lui è un faro per la squadra è un ragazzo che tra l'altro dà sempre tutto quindi è il capitano sia in campo che fuori perché è un esempio da seguire poi giocatori tra virgolette più esperti abbiamo Pozzetti che è un ragazzo di Ancona che era stato già a Senigallia e poi è tornato Michael Lemmi e Emanuele Musci che sono due giocatori che come dire over 30 e poi abbiamo una serie di altri buonissimi giocatori Francesco Gniecchi che era uno dei punti dei reduci dello scorso anno Matteo Santucci e Matteo Neri che sono due ragazzi che abbiamo preso appunto quest'anno e che stanno dando un ottimo contributo Matteo Santucci è stato vittima di un infortunio che tutt'oggi ci sta un po' portando dietro e poi abbiamo due under che stanno dando il loro contributo uno Luca Valle che addirittura è cresciuto tantissimo nel corso dell'anno e Matteo Cerruti che è un ragazzo che avevo visto l'anno scorso a Iesi che è il primo anno anche lui che si affaccia alla serie B quindi ha qualche difficoltà in più ma che ci sta dando una grossa mano e poi che dobbiamo sempre ringraziare molti under di Senigallia che non sono magari all'altezza ancora per poter fare la serie B ma ci danno una grandissima mano negli allenamenti L'impressione è che abbiate visto un po' di strisce in questo campionato strisce negative strisce positive recentemente cinque vittorie consecutive sequenza interrotta dall'ultima sconfitta nel derby Sì devo dire anche che è il calendario che ci ha un po' messo davanti a queste strisce perché il calendario ci ha sin da subito fatto capire che avevamo alcune squadre tra virgolette abbordabili altre squadre non alla nostra portata siamo stati molto bravi nel giorno di andata a vincere tutte quelle che dovevamo vincere come dire e a giocare bene e comunque lottare anche con quelle forti Rieti e Faenza che sono le due più forti da noi hanno vinto una di tre e una di sei poi abbiamo avuto appunto come dicevo quel momento di grande difficoltà ma ci è successo credo veramente di tutto un infortunio grave chi abbiamo preso per sostituire l'infortunato infortunato di nuovo quindi una serie di vicissitudini che ci hanno fatto come dicevo prima un po' perdere la bussola adesso che l'abbiamo ritrovata siamo stati bravi appunto in queste ultime partite a vincere sia con quelle tra virgolette abbordabili ma anche a fare un paio di colpi importanti andando a vincere a Fiorenzo Ola in casa con Ozzano che è una delle squadre più forti del campionato e a certificare lo spirito di questa squadra il fatto che abbiate portato a casa un paio di risultati all'overtime esatto un paio di risultati all'overtime come dicevamo prima una squadra intensa come la nostra ha avuto la forza il coraggio e l'energia di resistere anche a partite dove sembrava che avevamo vinto e poi ci hanno recuperato alla fine non è da tutti poi all'andata per esempio a Ozzano abbiamo perso dopo un supplementare con un bruttissimo 14 a 0 quella però è un'esperienza che poi ci ha fortificato e l'abbiamo fatta nostra per poter vincere poi i supplementari del giro di ritorno Andiamo a dare un'occhiata ai risultati dell'ultimo turno quello pre-Pasquale in cui è maturata questa sconfitta sul campo di Iesi è un risultato pronosticabile le dimensioni della sconfitta sono quelle che si potevano immaginare come si è sviluppata questa partita no speravamo di no ovviamente è stata una partita dove Iesi ha sicuramente mostrato tutta la propria forza tirando con oltre il 40% da tre punti quindi tirando molto bene noi purtroppo nell'infrasettimanale abbiamo giocato domenica mercoledì loro abbiamo giocato sabato sembra poco ma un giorno di riposo soprattutto a questi livelli a questi livelli vuole dire tanto comunque assolutamente nulla da dire sulla vittoria di Iesi che ha certificato speravamo sicuramente non di subire queste dimensioni una pattuglia nutrita quella delle marchigiane come vivete il rapporto con le concorrenti dirette chiamiamole così sicuramente è una bella cosa perché abbiamo tanti derby quest'anno i derby portano gente al palazzetto e fanno crescere il movimento di sicuro un po' di campanilismo c'è sempre è per questo che magari la sconfitta di Iesi seppur ci può stare insomma Iesi è molto forte si è rinforzata tanto però insomma ha fatto un pochino e poi la tradizione non gioca ma comunque rappresenta sempre un fattore assolutamente e quindi anche contro Ancona diciamo ci si tiene sempre a portare a casa il risultato e quest'anno contro Ancona per esempio abbiamo fatto bene all'andata in casa e poi dopo invece al ritorno hanno fatto meglio loro e poi quest'anno ci sono anche allora abbiamo detto Iesi Ancona c'è anche Matelica c'è Fabriano e quindi siamo cinque diciamo delle Marchigiane e tutte quante abbastanza forti diciamo assolutamente Fabriano e forse Iesi riusciranno ad andare nei primi quattro posti della classifica infatti la classifica che è apparsa di cui dobbiamo dare lettura perché è in atto una riforma dei campionati per cui riepilogando le prime quattro avranno direttamente accesso alla prossima B1 è così? allora gli altri anni i playoff le prime otto invece quest'anno i playoff sono solo le prime quattro squadre e avranno accesso direttamente alla prossima B1 e potranno giocarsi la possibilità di andare in A2 invece dalla quinta alla dodicesima posizione si avrà la possibilità di fare questi play-in diciamo degli spareggi a turno unico con un turno unico la meglio di 5 quindi 5 gare al massimo chi ne vince 3 diciamo si porta a casa il risultato per accedere a questa B1 unica che diciamo che sarà un pochino una serie B d'elite diciamo con la classifica attuale sareste perfettamente dentro questi play-in chiamiamoli così però l'obiettivo ulteriore a questo punto è guadagnare la migliore griglia possibile anche per acquisire il diritto di giocare un'eventuale bella in casa oltre che magari incontrare un avversario un pochino più malleabile Filippetti si come dicevamo prima dalla quinta alla dodicesima vuol dire che quinta, sesta, settima e ottava hanno la bella in casa non ci sono campi sulla carta proibitivi inespugnabili però certo arrivare a ottavi per noi sarebbe un ottimo risultato a oggi siamo ottavi a quattro giornate dalla fine quindi probabilmente poi la pallacanestro mi insegnate è fatta anche di riferimenti geografici per cui giocare in casa anche quell'aspetto lì si porta dietro poi per noi Senigali comunque giocare in casa è un fattore magari non da altri campi ma da noi c'è seguito noi saremo chiaramente molto contenti anche per la società stiamo lottando per mantenere questo ottavo posto che probabilmente all'inizio dell'anno era un po' impronosticabile peggio ancora diciamo a Natale quando eravamo in quel periodo appunto complicato e con tutto quello che ci stava succedendo merito dei ragazzi che chiaramente stanno facendo sacrifici allenamenti con grande intensità e noi insomma sogniamo di mantenere questo ottavo posto e dovrete però misurarvi con un calendario insidioso a dire poco detto bene insidioso a dire poco perché adesso affrontiamo Imola in casa con uno sconto diretto una delle due Imola una delle due Imola la Virtus Imola in questo caso e poi dopo c'è un calendario veramente complicato dove ci vedrà di fronte prima Rieti capolista poi Faenza citiamo tra l'altro squadre dalla storia straordinaria Rieti Fabriano stessa Fabriano stessa esatto e Fabriano poi è l'ultima squadra che affrontiamo a Senigallia nell'ultima di campionato prima appunto di questi play-in dicevamo dell'importanza di giocare in casa per una squadra che comunque ha un suo pubblico ha un suo patrimonio di fedelissimi quanto vi segue Senigallia? allora Senigallia non è una città di basket sicuramente è una città di calcio ma abbiamo un buon seguito diciamo che ci sono molti fedelissimi che ci seguono anche in trasferta però nel fortino al Palace è tutta un'altra cosa insomma la squadra lo sente di più una pallacanestro Senigallia che ormai da sempre porta in giro per Italia il nome della Golden Gas quanto sono importanti gli sponsor questo sponsor in particolare ma anche gli altri tra gli altri la BCC di Fano che vi accompagna in questa avventura allora gli sponsor sono tutto per una squadra una squadra fare un campionato di serie B diciamo è molto oneroso e è una bella bandiera per la città ma sicuramente se non ci sono gli sponsor che ti aiutano è impossibile soprattutto per chi non può contare sul classico mecenate di turno assolutamente e la Golden Gas per noi è vitale il main sponsor ci segue da tanti anni ed è una cosa strana perché anche al palazzetto si urla Golden Gas da noi non si urla Senigallia ma Golden Gas cioè quella identificazione che è avvenuta per esempio a Pesaro con la Scavolini sì sì assolutamente ed è molto importante che diciamo le aziende del territorio comunque investano su questo territorio il territorio che diciamo li fa lavorare adesso la Golden Gas è un'azienda che non lavora chiaramente solo sul territorio ma è importante che gli sponsor che lavorano sul territorio poi investano sullo stesso non solo per un discorso sportivo ma per un discorso sociale abbiamo detto la BCC di Fano ecco questo per noi è molto importante perché loro ci aiutano tantissimo anche proprio per il discorso giovanile perché la Palacanesto Senigallia non è solo Golden Gas la squadra di serie B ma assolutamente è un diciamo una società che ha un vivaio molto grande siamo più di 230 ragazzini quindi con tutte le loro famiglie e la BCC investe diciamo nella nostra società soprattutto per il discorso dei giovani investire sui giovani secondo me è molto molto importante è importante come dicevo dal punto di vista sociale perché tutti i ragazzi che giocano a pallacanestro diciamo che crescono non solo come atleti ma anche come uomini questo è fondamentale io ho cominciato a frequentare la società proprio con i miei figli che hanno fatto le giovanili a Senigallia e mi sono appassionata mi è piaciuta questa società per come cresceva questi ragazzi ecco i ragazzi tramite i loro allenatori ma anche nel gruppo stesso di tutti i ragazzi aiuta a crescere aiuta a crescere con dei valori i valori della pallacanestro come sport di squadra tra altre cose secondo me sono molto belli perché è uno sport che non insegna l'aggressività ma a giocare tutti quanti insieme e questo poi i ragazzi lo portano avanti e lo portano avanti anche da adulti molte volte succede che il gruppo dei ragazzi diciamo delle giovanili continuo i miei figli sono grandi ancora escono tutti quanti con il gruppo delle giovanili del basket e quindi ecco il fatto che gli sponsor seguano e che investano sulle società che investono sulle giovanili secondo me è una cosa molto importante ringraziamo Sonia Fineri presidente della Golden Gas volevo ringraziare gli sponsor mi fa arriva questo così quindi voglio ringraziare tutti gli sponsor che si sono avvicinati che ci hanno aiutato e anzi lancio un appello per cui tutti quanti altri sponsor si possono avvicinare a noi aiutarci a crescere questa grande famiglia di giovanili e la famiglia poi invece dei più grandi di quello che fa da traino per tutti quanti grazie ringraziamento agli sponsor raggiungo allora il mio nei confronti di Sonia Fileri presidente della Golden Gas Senigallia e Paolo Filippetti allenatore della squadra che sono stati con noi noi torniamo fra qualche istante ci stiamo avvicinando all'estate anche se le temperature di questi giorni non lo fanno immaginare quindi con l'approssimarsi dell'estate spazio agli sport legati all'acqua legati al mare uno di questi è sicuramente la vela ma non solo e di questi sport tratteremo questa sera con il presidente del club nautico Vivani Pier Giorgio Bonazzelli buonasera e benvenuto buonasera buonasera a tutti e con Giacomo Giovannelli che è del club nautico Vivani e direttore sportivo ma anche atleta di punta buonasera anche a lui buonasera club nautico Vivani che ha una storia che qualcuno magari non immagina neppure perché affondiamo le radici all'alba del novecento è così Bonazzelli? esatto il nostro club nasce o meglio i prodorvi del nostro club nascono nel 1905 con il reale club Metauro che aveva la sede al Lido nel vecchio hotel Lido per poi rinascere dopo la seconda guerra mondiale nel 1953 con la denominazione attuale club nautico fanese e in questi decenni qual è stata l'attività che il club nautico ha portato avanti e quale seguito ha creato? l'attività principale è stata sempre la vela e gli sport nautici in genere ma da ormai due anni da quando abbiamo preso in mano con l'attuale dirigenza il club siamo ritornati all'origine nel senso che abbiamo riportato il canottaggio una specialità particolare del canottaggio a Fano ovvero il coastal rowing cioè il canottaggio fatto in mare ce ne occuperemo più ampiamente tra poco tornando alla storia del club nautico evidentemente un sodalizio che a questi trascorsi può far leva su un amore per il mare e per la vela che è sempre stato molto caratteristico di questa realtà è stato il motore in tutti questi anni quasi un secolo anzi forse qualcosa di più che ha portato avanti l'attività del club nautico l'amore per il mare l'amore per tutte le attività l'amore per il canottaggio dal 2020 da quando siamo affiliati anche alla Federazione Italiana Canottaggio e questo per cercare di trasmettere l'amore per il mare a più fanisi possibile per dare l'opportunità a tutti e a più persone possibili di andare in mare e non stare solo in spiaggia ma andare in mezzo al mare in mezzo al vento Su quanti soci potete contare e qual è l'età media di questi soci? Contiamo al 2022 contiamo 137 soci l'età media è un pochino alta cerchiamo di aggiornarci e diventare diventare un po' più giovani non noi ma quelli che vengono che vengono al club e con tutta una serie di iniziative che coinvolgono dalla vela base alla vela per adulti però per cercare di coinvolgere più persone possibile ma partiamo dai giovani E a questo riguardo Giovannelli come vi approcciate ai giovani? Qual è l'attività di reclutamento che fate? Sono i giovani che si avvicinano alla vela piuttosto che al canottaggio o dovete andare un po' a cercarli? Ma negli ultimi anni abbiamo fatto dei bei numeri con la scuola vela quindi forse siamo riusciti ad appassionare un po' le famiglie e quindi sì siamo andati ogni tanto bisogna andare a cercare nelle scuole nelle piazze quando c'è quando c'è stata anche la città dei bambini sono stati presenti per diversi anni quindi abbiamo fatto del lavoro comunque per farci conoscere E il giovane si avvicina il ragazzo il bambino si avvicina la vela come sport complementare estivo oppure fa una scelta precisa a questo riguardo? Ma parte secondo me partono la maggior parte come sport complementare per sperimentare una cosa nuova poi qualcuno resta si avvicina di più si concentra di più sull'attività velica altri scelgono più la spiaggia Al profano verrebbe da chiedersi ma se porto mio figlio o mia figlia fare vela c'è bisogno che abbia anche la barca di quali strumenti si deve dotare si deve equipaggiare serve solo un costume un paio di scarpe alla ginnastica un cappello un berretto per il sole se no il resto tutta l'attrezzatura viene fornita dal club quindi barche salvagenti e tutto quello che serve per un corso base Quali sono i primi insegnamenti? Ah i primi insegnamenti il corso base dura una settimana e all'inizio diciamo si cerca di far familiarizzare i ragazzi con l'acqua e con il vento magari c'è anche qualcuno che ha un po' paura un po' timore di andare subito in acqua quindi si cerca un po' di fargli fargli cercare una propria dimensione e poi si parte con le nozioni base quindi il vento la direzione i vari venti sulla rosa di venti le andature i nodi insomma le nozioni proprio base Quali sono i requisiti che deve avere un buon velista e quali sono i requisiti che si chiedono fin dalla tenere età a chi si avvicina a questa disciplina? No sicuramente saper notare è importante forse è l'unico requisito che chiediamo poi il resto glielo diamo noi E allora mettiamola da questo punto di vista quali sono i requisiti che consentono di primeggiare in questo sport? Ma è difficile da dire alcuni requisiti si affinano con la pratica con l'esperienza sì sicuramente quello che a me ha aiutato molto negli anni è l'amore per il mare lo star bene nell'ambiente marino quindi la familiarità con con l'acqua non aver paura di di stare Ma immagino che un ragazzo che si avvicini alla vela comunque un po' di confidenza con il mare ce l'abbia per forza insomma altrimenti serve una scelta un pochino bizzarra e a proposito di questa attività giovanile avete credo anche una squadra di istruttori che è impegnata su questo fronte sì abbiamo una squadra di istruttori che ci aiuta nel cercare di diffondere la vela e anche il canottaggio a dire il vero presso la la cittadinanza presso i bambini che sono il nostro target diciamo così e la cosa bella è che questo gruppo di istruttori di aiuto istruttori nasce tutto dalle squadre giovanili sono tutti ragazzi che hanno gareggiato nelle classi giovanili Optimist e Laser provenendo tutti dal club sono arrivati al club cercando un'attività estiva è diventato un loro modo di di fare sport e poi dopo hanno deciso di continuare a stare con noi e ci aiutano nelle attività estive e questo ci fa molto piacere parliamo anche di risultati negli anni credo ne abbiate collezionati diversi quelli di cui andate più fieri ma di risultati ne abbiamo collezionati tanti e anche in una disciplina nuova rinnovata come il canottaggio abbiamo abbiamo ricevuto abbiamo ricevuto e avuto parecchi risultati qui con me il nostro direttore sportivo è il portacolori e il portabandiera del club nautico perché è fresco vincitore nonché ancora detentore del titolo europeo classe fin master negli anni nelle classi giovanili abbiamo avuto bellissimi risultati perché un atleta di punta a livello nazionale che è Marco Gradoni è nato al club nautico fanese e il primo titolo che ha vinto nell'Optimist ovvero il campionato italiano cadetti nel 2016 al lago di Dervio l'ha vinto con il club nautico fanese poi è cresciuto Gradoni adesso impegnato credo in un'avventura in previsione olimpica oltre che con Luna Rossa credo si è coinvolto è coinvolto nelle attività legate alla Coppa America con Luna Rossa e sta seguendo la campagna olimpica nel 470 misto con Alessandra Dubini lo seguiamo con piacere perché è un atleta che è nato al club poi le vicende sportive l'hanno portato dall'altra parte dell'Adriatico dall'altra parte del mare l'ha portato nel Tirreno visto che lui d'inverno vive a Roma però lo continuiamo a seguire con piacere e con piacere ci viene a trovare ogni tanto si viene anche a allenare il 7 ottobre scorso con Alessandra sono venuti a allenarsi 4 giorni al club e li abbiamo ospitati volentieri Giovanelli invece ve lo tenete stretto l'abbiamo visto a carico di allori e allora cosa spinge comunque ad un'età non più verdissima continuare a fare vela e a primeggiare questo credo richieda anche una preparazione molto scrupolosa sì sicuramente ci vuole un po' di costanza sia nell'uscita in acqua ma anche nella preparazione a terra perché comunque sono imbarcazioni che richiedono una certa preparazione fisica quindi palestra corsa eccetera quello che mi fa continuare almeno a me è la forte no prima di tutto il divertimento mi diverto sempre anche se esco da solo anche ieri sono uscito due ore col freddo e le onde però non mi annoio mai altrimenti avrei già smesso da un pezzo è una continua scoperta poi anche se sono ripeto due ore da solo in barca mi volano quindi è una cosa che mi appassiona qual è il livello delle competizioni che affronti allora queste sono immagini del del campionato europeo dell'anno scorso sono le competizioni che 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 faccio che frequento di più sono quelle nazionali quindi c'è un circuito di regate nazionali che si chiama Coppa Italia e poi ogni anno cerco di fare di partecipare almeno a una o due due competizioni internazionali che possono essere l'europeo master o mondiale master quest'anno tra poco più di un mese saremo impegnati nel mondiale master in Grecia e niente incrociamo le dita obiettivi ma obiettivi ben figurare oppure ben figurare ma io già se riesco a stare tra i primi 10 i primi 15 sono più che soddisfatto poi tutto quello che viene in più va bene poi ci sono anche se sono competizioni master quindi per over 40 ci sono comunque timonieri molto forti anche ex olimpionici anche ex atleti di Coppa America quindi c'è gente brava non è così scontato così scontato vincere ci vuole bravura impegno e un po' di fortuna abbiamo accennato al fronte che si è riaperto in questi ultimi anni quello del canottaggio che ha portato anche all'organizzazione di eventi e produrrà eventi anche in futuro è così? sì quest'anno siamo scarichi di eventi per il canottaggio perché ci siamo candidati presso la federazione italiana canottaggio per l'organizzazione di o il campionato italiano oppure una tappa della Coppa Filippi che è la coppa di canottaggio principale per il canottaggio in mare poi al buon cuore della federazione decidere cosa assegnarci noi l'impegno ce lo mettiamo come lo mettiamo tutti gli anni quando organizziamo eventi il canottaggio ha nella 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 zona del Lido un palcoscenico naturale la la zona del Lido è perfetta per poter assistere ed organizzare regate di canottaggio nella specialità beach sprint in particolar modo che è una specie di slalom che si fa tra le boe con le imbarcazioni da canottaggio singoli doppi e quattro di coppia e anche eventualmente le endurance che è invece una regatta un po' diversa perché si va sulla lunga distanza si parta dal club si fa una tratta abbastanza lunga si arriva quasi a forse o sei ore e si torna indietro quindi c'è la volontà di organizzare ancora eventi importanti come quelli che abbiamo organizzato l'anno scorso appunto che abbiamo ospitato una coppa Filippi e su piano dei praticanti che tipo di riscontro avete ottenuto state ottenendo piano dei praticanti è un nucleo piccolo ma resistente ma ben agguerrito perché sia tra i giovani che tra i master annoveriamo atleti importanti il nostro istruttore di canottaggio Corrado insieme al suo compagno di compagno d'acqua inteso come compagno di barca Fabrizio sono campioni italiani master freschi di vittoria a Barletta a settembre scorso quindi sono titolari del titolo italiano di categoria quindi insomma abbastanza importante e ben assortiti Per concludere cosa vedete nel futuro del Club Nautico Vivani? Nel futuro noi l'obiettivo nostro al di là dell'attività velica invito tutti il 28 di maggio perché ospiteremo il campionato regionale laser al Club Nautico quindi tanti atleti giovani di tutte le marche che vengono a gareggiare quello che vogliamo e quello che vogliamo fare è aggregare e diventare il centro velico e remiero per la città di Fano quello è il nostro obiettivo riuscire a trasmettere la nostra passione a tanta gente e fare in modo che tanta gente veda nel Club Nautico Fanese il posto naturale dove andare per fare un giro in barca per ampliare le proprie capacità veliche per rinforzarle e per trovare un luogo dove discutere di vela discutere di canottaggio discutere di mare di passione per la nautica in genere Grazie a Giacomo Giovannelli direttore sportivo e trattata di punta del Club Nautico Geremia Vivani grazie a Pier Giorgio Bonazzelli presidente del Club Nautico Vivani grazie come sempre a voi per averci seguito anche questa sera e contiamo come sempre che lo facciate anche la settimana prossima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti